Cile, il leader di centrodestra Sebastian Pignera vince le elezioni sconfitto Aleandro Guilier, rappresentante di socialisti radicali. Altissima l'astensione, si archivia amaramente il secondo mandato della presidenta Bachelet Sebastian Pignera, imprenditore di centrodestra, torna alla presidenza del Cile che già aveva occupato tra il 2010 e il 2014. Ha battuto il ballottaggio il giornalista Aleandro Guilier, rappresentante di socialisti radicali. A tarda notte ora italiana, a scrutinio ancora in corso, Guilier ha ammesso la sconfitta. 54,57-45,43. Pignera, che già ha guidato il paese latino-americano tra il 2010 ed il 2014, riceverà l'incarico l'11 marzo prossimo dalle mani di Michelle Bachelet, la donna di cui prese il posto anche sette anni fa. Al primo turno Pignera aveva ricevuto il 36,6% dei voti, mentre l'elettorato di centrosinistra si era diviso tra Guilier, 22,7%, e Beatriz Sanchez, 20,3%. Delusione per entrambi gli sfidanti Una delusione per entrambi i protagonisti del ballottaggio, Pignera si aspettava più voti, e Guilier un distacco più ampio sulla Sanchez. Ricompattare la sinistra è stata la parola d'ordine del giornalista, attraverso l'attacco al miliardario rivale puntando anche sull'emotività, come l'appoggio guadagnato dal popolare ex presidente dell'Uruguay, Yosem Uieca, intervenuto al comizio di chiusura della campagna di Guilier. Ma non è bastato. A causa del voto frammentato e di un nuovo sistema elettorale, il vincitore non godrà della maggioranza del Parlamento dovrà conquistare alleati. L'altra novità per i cileni è l'affluenza molto bassa, sotto il 50%, da quando, nel 2012, è stata tolta l'obbligatorietà del voto, la disaffezione per le elezioni è aumentata moltissimo. Bachelet, conclusione amara il Cile archivia così il secondo mandato di Michelle Bachelet, dopo quello assai più popolare del quinquennio 2006-2010. Stavolta la presidenta ha dovuto affrontare un ambiente assai più complesso, con il prezzo delle rame basso e penalizzante per l'economia, e un'agenda di riforme molto ambiziosa. Bachelet aveva promesso di correggere antiche eredità della dittatura, come il sistema scolastico e quello tributario. È riuscita a farlo solo in parte, e ancor meno a farsi capire dai cileni, l'aumento delle imposte chiesto alle imprese per finanziare le riforme ha raffreddato l'interesse di alcuni investitori, e secondo la destra ha rallentato la crescita economica.